Lavoro in Fondazione Ant, mi occupo di innovazione e sviluppo. Come Fondazione Ant siamo iscritti al network da diversi anni e ne traiamo beneficio per il fatto che incontriamo aziende che poi aderiscono al nostro modello di sostenibilità. Fondazione Ant da 45 anni raccoglie fondi per sostenere i malati di tumore e finanziare visite di prevenzione all'interno delle aziende. Il Covid purtroppo ha oscurato qualsiasi altra patologia ma il tumore non si è mai fermato e quindi in questi ultimi anni stiamo sviluppando visite di prevenzione all'interno delle aziende per rafforzare la sostenibilità sociale e il benessere dei dipendenti. Inoltre Fondazione Ant ha deciso di aderire a progetti di sostenibilità ambientale attraverso 11 boschi della vita che sono zone verdi che stiamo piantumando attraverso le donazioni e istituendo il suo primo apiario urbano. Quindi anche i temi di sostenibilità ambientale sono nel cuore della nostra fondazione. Quest'anno Ant compie 45 anni quindi è un anno particolarmente importante per noi e consiglierei anche altre organizzazioni del terzo settore di aderire proprio per gli stessi motivi.